Facciamo un applauso Stefano a questo passaggio, grazie a Timoni! Ecco un altro bel volo a coltello, guardate, 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 fate le vostre foto, Stefano Grilli! Bellissimo questo passaggio, con saluto, avete visto? Ecco una serie di roll, vedete, controllo massimo di tutti i comandi, compreso quello del motore. Vedete che bella leggerezza in volo questo modello. Grazie. 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 Ecco, un bel passaggio alla minima di sostentamento, all'angolo di attacco elevato, vedete, il motore che sostiene il modello è quasi fermo e adesso da qui probabilmente lo porterà in hovering, e infatti. il vento un po' disturba, vedete la leggerezza, questi modelli come con un filo di gas proprio riescono, scende quasi verticale, e qui per carità il modello, il motore, ma qui c'è anche, i pollici di Stefano Grilli e la messa a punto del modello, Stefano Grilli facciamogli un grande applauso, silicatevi con le foto, ve lo sta tenendo lì proprio per questo, vuole toccare Simone, avete visto, toccare Simone, un altro applauso spontaneo, avete visto Stefano Grilli saluto e quindi si preparerà all'atterraggio bravo! Puoi battere le mani, nemmeno i parenti, nemmeno i parenti, nemmeno i parenti, gli amici si è prevenuti, non posso rilassare, li hai fatta qualche foto? Eh ma ci posso pure credere, la volta la posizione sbagliata! Eh no, hai fatto le foto? No! Brava! Scusa, una ripresa degli amici, allora adesso facciamo un volettino insieme, io con Labu, una ripresa con gli amici, fare un commento! Poi ci dovrebbe raggiungere anche Armando Valentino, che vogliamo far vedere anche, con modelli piccoli si può iniziare questo bellissimo sport che è il modellismo, c'è qualcuno che si offre per parlare mentre volo? Bravo Stefano, bravo! Grazie, grazie! Stai, una frase famosa! Qual è la frase famosa? Ho volato tanto Cari e mi chiamo Stefano Grilli! Sono di Gabbia di Iesi, sono e sono davanti a una telecamera professionale, c'è Paolini che mi ha saluto alle spalle, è normale!